benvenuti a tutti in un nuovo video di robocraft e allora prima così islam proprio prima che me lo dimentico ma avevate consigliato di chiudermi la cabina o che lo farò quindi quindi 15 inventori questi questo questo e qua penso vada bene non è la bellezza fatta carretto però vabbè ci sta c'ho un altro cannonetta che è sta roba sono i robot da sciopparsi figo questa però questo qua mi sembra ancora più figo volete mettere ma però per adesso almeno che non ricevo non riricevo il codice dalla casa non credo c'ho però anche perché ho appena fatto una stupidità però non ve la racconto che è meglio lasciamo perdere qua allora so ce l'ho visto che qualcuno mi ha aggiunto accetta 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 mordug vediamo se si chiama così si mordug non ho visto come si chiama più che altro mucco vabbè battle proviamo sto cassettone qua non ho attivato purtroppo il premium boom hash plus vediamo kill the doctor dip co eseguo gli altri devo rifarlo da zero però vabbè però adesso no che fa quello ma che brutto è quel carretto il mio si sarà brutto però cioè per farvi capire quanto ho matato con un colpo si è cappottato che babbo well done oh vuoi vedere che questo giro vinco spero mai cantare troppo presto anche perchè sono stonato pure eh ma che impediti sono questi ah no questo qua è afro tutti qua tutte qua perchè c'è uno nuovo volante entro team victory non posso attaccare non posso attaccare gli alleati oh penso lo dici oh finalmente una vittoria posso avanzare di livello tech 3 ok cosa posso mettere cosa posso mettere io vorrei arrivare a sbloccare i piedini qua del camminatore questi qua e questo qua nanotech nanotech destructor non so mi sperano potenza allora ok anzi no aspetta devo potenziare anche la velocità vai vai scusi scusi mi sento un po' per aria non so per non so voi ma mi sento un po' per aria posso scendere eh poing no bella quella torretta qua dietro dimmi quanto è utile quella torretta qua dietro ah che ti sbagli quello non cade pfff quanto è babbo dai no se è bugato ma poi bella l'inutilità da farsi le torrette così dai cioè si sono grosse tutto però le vedo molto inutile non c'è uno su sto gioco sai che figata muori muori andiamo andiamo dreadnought perchè ogni tanto premare che devo ricaricare non c'è non c'è non c'è no tristezza vattene si e dice è brutto questo qua sembra più uno struccio però non dire altro non so se usare ne fare un'altra o meno perché ho paura che questa cosa aperto anteriormente la sotto ci vedo sia ma si dai a me faccio un ultimo almeno salgo di livello dopo vadi vadi cos'è quell'uno che c'hanno di fianco bello che l'altro giorno avevo trovato il codice per avere il premium per un giorno o quant'è che era oh l'ho perso non mi ricordo più quello che era il codice è bello che ve l'ho postato pure a voi tristezza andiamo andiamo move it che aspetti boom ecco è che sto guardando i pinguini che cammin... ah è volante ha fatto spaventar ahia nice decidi bella uga io me do perché perché sto punto esclamativo questo adesso no no Grazie a tutti. Dai, dai. Abbiamo vinto. Non mi è abbandonato proprio. Dai, Dragomaster. Dai, 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 dai. Eh no, c'è troppe torrette, te. Ok che io sono rimasto con solo tre torrette, però. Dai, guardalo, il camperato. Dai, che schifo. Dai, quest'altro che ha i rotali di Super Mario. Se venivate prima avevamo già vinto, dai. Guarda quanto stavano di conquista. QQ Ah boh, GG, dai. Anche se mi rode tantissimo il fatto che ci sia tipo un... Un coso gigantesco. Cioè, uno con un cannone gigantesco contro i livellini. Ma poi... Come se mi aspetta... Novo. Hmm... Tessets. Tag 3. Voglio arrivare qua Perché loro c'hanno i rail E con quelli sciottano tutto Ah, devo avere quelli da livello 2 Ok, ok Praticamente dovrò fare così Quanto costa un robot nuovo? Ehi, vabbò Cube the pot Devo arrivare a TR2 Questi qua sono TR2 Quindi evito Cosa è questo? La Lickman R3 Rectifia Cosa è che fa? Ah, praticamente ti addrizza la macchina O sbaglio? Boh, se lo sapete voi Ditemelo nei commenti Non lo so Non ho la min... Benché minima idea di cosa posso essere In Vendori Allora, Cube the pot Quattro c'è me la prendo Vai Garage Ah, no Aspetta, Cube the pot Inventore Non è che cambia molto Non è che cambia molto Non mi ricordavo qual era la testa Quindi per evitare lo shop Poi sono andato qua Sì, vabbè Più lontano piazza Vai Ho finito i cubetti E sono riandotto lo shop E mi prude l'occhio Ok 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 Devo ancora capire però come si passa al TR2 Non lo so Ah boh, dai Per questa puntata di Robocraft Dopo queste due vittorie è tutto È andato piuttosto bene Consigliatemi voi qualche altra modifica Da fare a sto carretta A sta carretta Tanto per ora Non gioco offline Off camera Cioè, scusa Per i primi livelli no Io vanti sì Perché almeno voglio Sapere un po' di cose da voi direttamente Ah boh Al prossimo video Ah E se non rispondo è perché sono ancora a scuola Come ho già detto molte volte nei commenti Faccio scuola dall'1 alle 7 purtroppo Quindi non potrò rispondere ai commenti Almeno o meno fino alle 7 Se rispondo tipo alle 8 Così così È perché sono stanco E sto giocando A qualcosina per rilassarmi un attimino Quindi Al prossimo video Ciao 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 ciao